Poi un pochino oggi di sconfitta a Palermo, al termine della partita comunque, punto a punto, fino alla fine, cosa non è dovuto fare? Ma allora, noi dobbiamo essere una squadra che deve vivere di entusiasmo, che deve essere la nostra base. Non guardiamo ciò che succede durante la settimana, perché siamo in un momento molto particolare, però è anche giusto vari meriti a Palermo. Finché abbiamo retto l'urto, siamo stati in partita, ha molte disattenzioni, però per come si è sviluppata la settimana devo dire bravo ai ragazzi. Adesso bisogna essere bravi a essere pronti contro Vicenza, però come tutte le partite Palermo a un certo punto ha messo la sua esperienza e noi abbiamo commesso degli errori per dei motivi che soltanto noi possiamo conoscere. Per quanto riguarda la squadra, non è quella vista contro Montalcone? Sì, però è una squadra giovane, bisogna avere pazienza, bisogna essere in grado di lottare come è stato fatto a Sprazi. Dobbiamo tante cose migliorare, siamo alla seconda giornata di campionato e diventa molto importante riuscire a dare a questi ragazzi un po' di continuità tecnica, di lavoro e poi secondo me piano piano è una squadra che anche qua alla fine siamo andati sotto negli ultimi due o tre minuti per cui nonostante tutto ciò che era successo in settimana diciamo che abbiamo fatto un'ottima partita. Giovanni è un ragazzo che secondo me in questi anni ha fatto un grande passo in avanti, purtroppo oggi non stava bene e difatti ora bisogna sincerarsi delle sue condizioni perché spero che non abbia febbre alta così come qualcun altro che purtroppo non stava bene e paghiamo delle cose delle ultime 48 ore però Giovanni secondo me è un punto di riferimento di questa squadra abbiamo bisogno di lui e lui deve migliorare alcune situazioni sia offensive che difensive perché secondo me ha fatto già due ottime partite e può fare ancora tanto grazie a voi